E' la notte del 30 luglio 1954. Fa molto freddo a 8.150 metri di quota. In una minuscola tenda, ben chiusi nei loro sacchi a pelo, due uomini si apprestano a trascorrere la notte. Poco distante da loro, altri due uomini si preparano ad affrontare la notte. Questi però non hanno tenda e nemmeno sacchi da bivacco. Ingaggeranno una sfida che durerà sino all'alba, una sfida contro la morte. Sarà una lunga notte sulla grande montagna. Nell'estate del 1954, sulle spiagge assolate, le notizie della spedizione italiana al K2 è bloccata per il cattivo tempo, non riscuotono più grande interesse. Già in aprile dalla motonave Asia, partita da Genova il 30 marzo e con destinazione il Pakistan, venivano scaricate nel porto di Caraci 17 tonnellate di materiale, di cui 13 di attrezzature alpinistiche. Tutto il carico verrà poi affidato alle spalle dei portatori per affrontare più a nord il ghiacciaio del Baltoro. Il vero nome del K2 è Ciogorì, la grande montagna. È un europeo, poco dopo la metà del 1800, a cambiarle il nome. Il primo occidentale che vide il K2 lo vide attraverso il mirino di un teodolite, che è uno strumento ottico che viene utilizzato dai topografi per misurare l'altezza della montagna. Questo occidentale era un capitano del Survey of India, il servizio trigonometrico e geodetico anglo-indiano, che si chiamava Montgomery. Nel mirino della teodolite di questo signore comparvero due cime innevate. Lui intuì che erano cime molto importanti e le chiamò K1 e K2. K era il pianeta Caracorum dei topografi. Dopo lunghi calcoli a Tavolino si stabilì che il K2 era la seconda montagna più alta della Terra. Da quando venne scoperto, il Caracorum ha sempre suscitato una grande attrazione. Il primo alpinista che giunse sulle pendici del K2 fu un italiano, 1890, prima degli inglesi dunque. Si chiamava Roberto Lerco, era originario di Gressonei, di probabile origine walser, e si arrampicò per qualche centinaio di metri, fino ad una certa quota, sulle pendici del K2. Non ci sono documenti scritti, ma quando il Duca degli Abruzzi nel 1909 era impegnato il K2, lui ad alcuni amici e la testimonianza orale venne registrata, trascritta, raccontò esattamente quali difficoltà tecniche avrebbe trovato il Duca degli Abruzzi. Nel 1892 arrivò una prima spedizione, i tempi non erano certamente ancora maturi per una scalata, ma insomma l'interesse per questa montagna c'era. In realtà in quel 92 il K2 non fu nemmeno tentato. Nel 1902 una spedizione europea composta da due austriaci, uno svizzero e tre inglesi e guidata da Eckenstein raggiunge i 6.500 metri di quota. Nel 1909 giunsero di nuovo gli italiani sulle pendici del K2, diretti da una capospedizione di eccezione, Luigi Amedeo di Savoia, il Duca degli Abruzzi, e con sé aveva alcune forte guide. Dal punto di vista alpinistico invece, beh, oltre al Duca, che era sì un discreto alpinista, c'erano grandi camminatori, soprattutto come Filippo De Filippi, che non era certamente un grandissimo scalatore, anche se era un grandissimo, importante viaggiatore. La spedizione esplora la montagna da tre versanti, salendo lo sperone sud-est fino a 6.000 metri. Il Crestone Abruzzi diventerà così la via più logica per una futura salita. Nel 1929 una spedizione scientifica guidata dal Duca di Spoleto esplora il Karakorum. Ne fa parte anche il geologo e futuro capospedizione Ardito Desio. Nove anni più tardi una spedizione americana guidata da Houston risale il Crestone Abruzzi, attestandosi a 7.925 metri di quota. La spedizione del 1938 era diretta da Charles Houston, che era un medico alpinista, che organizzava delle spedizioni molto leggere, perché Houston nel 1936 era stato con Tillman al Dandadevi e aveva capito che sia animale che in Karakorum si può salire molto in alto, il Dandadevi è una montagna di 7.800 metri, anche senza tutte le grandi risorse messe in atto dalle spedizioni tradizionali. Ma l'espedizione più importante d'anteguerra è sicuramente quella del 1939. È americana, ma solo formalmente perché in realtà il personale più importante è un tedesco di Dresda che si chiamava Fritz Wisner, che abitava da dieci anni negli Stati Uniti. Wisner raggiunse la straordinaria altezza di 8.370 metri in compagnia di uno scerpa che arrivava dal Nepal e che si chiamava Passan Davalama e derono veramente un tiro di schioppo dalla vetta, se nonché Passan Davalama, atterrito dalla notte che stava per calare, atterrito dai demoni della notte, in pose a Wisner di scendere. È ancora Houston a tentare il K2 nel 1953, raggiungendo la quota di 7.631 metri. Si tratta della terza spedizione americana. In Europa il secondo conflitto mondiale ha quasi fermato le attività alpinistiche. I giovani combattono al fronte. Solo al termine del conflitto i reduci potranno riprendere a scalare le montagne. Il club alpino italiano, promotore della spedizione al K2 del 1954, convoca i migliori uomini dell'alpinismo come Walter Bonatti, Eric Abram, Sergio Viotto, Pino Gallotti, Mario Piuscio, Cirillo Floreanini, Ugo Angelino, Gino Soldà, Ubaldo Rei, Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, il cineoperatore Mario Fantin, il dottor Guido Pagani. La spedizione verrà guidata da Ardito Desio. Furono scelti personaggi molto forti. Lacedelli era un grandissimo rappicatore, per esempio. Bonatti, che ha cominciato a mettersi in mostra da qualche anno ed era fortissimo fisicamente e anche dal punto di vista psicologico aveva un equilibrio straordinario e una resistenza psichica che andava oltre i limiti, diciamo, degli alpinisti forti di quegli anni. A Torino, gli alpinisti vengono sottoposti ad una serie di accurati controlli medici. Ma questi erano laboratori che forse a quel momento lì, ossia 50 anni fa, non erano proprio specializzati totalmente per testare un alpinista. La camera iperbarica era, diciamo, non iperbarica, perché si andava verso il vuoto quasi. Si aspirava via l'aria in modo da creare una depressione più o meno corrispondente a quella che dovevamo, possibilmente, raggiungere intorno agli 8.000-9.000 metri, lo stesso, e vedere cosa succedeva ai vari gradini ai quali ci si portava. È stata una bella esperienza che quella, perché qui, cosa vuole, si respira normalmente, l'ossigeno c'è. Entrando in camera l'hanno tolto piano piano, non essendo abituato, a un certo momento ci siamo proprio trovati a non essere più noi, ecco, non si ragionava più. Questi erano ragazzi che arrivavano dalle montagne, praticavano l'alpinismo, erano abituati ad un'altra realtà. Le prove nella camera iperbarica per loro equivalevano alle prove degli astronauti selezionati per andare sulla Luna, cioè era veramente, per loro deve essere stato come dire, l'aprirsi di un mondo diverso, del mondo della grande medicina, degli esperimenti, eccetera. Molti furono addirittura sconcertati. Tutti e due avevamo una lavagna semplice fuori e dentro e da fuori scrivevano qualcosa e ripetimi quello che ho scritto. Questo andava bene fino a 6-7 mila metri, poi 8 mila metri, 9 mila metri, a un certo momento ce l'hanno raccontato dopo perché abbiamo detto ma siete stati voi fuori a scarabocchiare sulla lavagna. Invece eravamo noi dentro che abbiamo fatto questo movimento tipico rotatorio con il gesso, con la matita, quel che sia, che precede un momento prima di quando si perde un po' i sensi, non si coordina più. Ci sono anche grandi esclusi, il primo di tutti è Riccardo Cassì che viene escluso per questioni mediche, dopo la visita medica. Io ho provato anni fa a chiedere al professor Desio spiegazioni precise, ho chiesto di vedere il rifatto medico esattamente dieci anni fa. Il professore fu molto deciso, mi disse che erano questioni delicate e non mi fece mai vedere nulla. In una terra estrema come quella del Karakorum spesso mancano le strade e ancora oggi il trasporto del materiale viene affidato ai portatori. Sotto il Pakistan abbiamo dovuto reclutare dei baltistani che erano proprio locali, ma non erano peggio degli Sherpa, forse non erano ancora così allenati, così abituati a collaborare con la spedizione. Era gente che era non equipaggiata a affrontare la montagna in quelle condizioni, anche perché mi par di ricordare sono avvenute delle nevicate un po' diciamo non previste fuori stagione che li hanno trovati impreparati insomma. Ad un certo punto ai portatori vengono distribuite delle scarpe. Non li mettevano, non li mettevano, preferivano andare o a piedi scalzi o con le loro ciabatte e tenere lì le scarpe che dovevamo. I portatori erano poi suddivisi in portatori di quote più basse fino ai 5.000 metri, 6.000 al massimo, poi sono subentrati gli Unza che potevano essere paragonati agli Sherpa. Gli Unza erano un altro gruppo di 12-13 uomini che vivono nella valle degli Unza, una razza ariana. Tanto è vero che c'era un Luisa Kang, non mi ricordo il nome, io lo chiamavo uno svizzero, insomma che sembravano svizzero proprio, chi era biondo, ma normali ecco uomini come noi. I carichi per ogni portatore si aggiravano fra i 20 e i 30 chili, 25 chili. Una parte dei portatori portavano la farina da distribuire giornalmente ai portatori, era un chilo al giorno di farina che si doveva dare ad ogni portatore, oltre alla paga naturalmente. I portatori vengono pagati con un sistema molto particolare. Era un sistema portato dalle prime spedizioni, dal duca degli Abruzzi e dal duca di Spoleto, insomma, che ad ogni portatore veniva al mattino, veniva distribuita una piastrina numerata e alla sera si restituivano la piastrina e venivano pagati, insomma. Loro non hanno fatto questo lavoro per passione, non l'hanno fatto per guadagno, perché era gente che sono poveri, loro la montagna interessava relativamente, loro interessava arrivare alla sera a guadagnare qualche ropia. I Balti erano una popolazione, come dire, che doveva essere capita da questi giovani alpinisti. È chiaro che in qualche caso hanno cercato di approfittarne imbastendo scioperi, ma questo direi che è un po' nella logica di quei popoli. I portatori sapevano scioperare anche il momento giusto per avere qualche rupia in più, qualche mezza rupia, perché loro guadagnavano una rupia al giorno che equivaleva a 240 lire. Ma è proprio uno di questi scioperi, verso la metà di maggio, che rischia di far saltare l'intera spedizione. E lì è stato un momento brutto, ma è stato un momento che la nostra spedizione andava a rischio di fallire. Al Museo Duca degli Abruzzi di Torino vengono conservati alcuni cimeli della spedizione, italiana, al K2. Durante la marcia di avvicinamento era stato stabilito che tutti i portatori erano un paio di occhiali per uno. Poi è successo che il capo, Desio, ha lasciato giù una parte degli occhiali. Il responsabile per il materiale era Ugo Angelino. Avevo disposto per portare via 600-700 paia di occhiali, a un certo momento mi è stato detto, sono troppi, ne lasciamo una parte. Questa decisione scaturisce durante il sorvolo del K2. Mentre noi si volava sopra il ghiacciaio abbiamo visto che era come una strada grande sterrata o asfaltata senza un minimo di neve. Per cui il professor Desio ha ritenuto, dice, ma qui andiamo tranquillamente senza gli occhiali e non avremmo difficoltà. Durante il trasferimento da Ascole a Durdukas la situazione precipita. Come succede un po' a tutte le spedizioni, l'avvicinamento dura quasi quasi un mese. Mentre eravamo su questi percorsi, su queste tratte, diciamo, da un campo all'altro, da una fermata all'altra, non erano ancora campi definitivi. Quindi si è messo a nevicare e due giorni di nevicata hanno trasformato in una parabola tremenda di riflesso che veramente, diciamo, accecava un po' tutti e mancavano a questi occhiali. Molti portatori deposte le casse si radunano a Durdukas decisi a non proseguire. È un momento di grande tensione. Ricordo che hanno avuto problemi per la, come dire, una forma di oftalmia a causa di questo riverbero della neve. E lì c'è stato un po' di sua mossa, perché quando sono tornati indietro un gruppo, tutti per mano, allora ci sono andati da fare, il dottore ci ha spiegato, mettendo le gocce, tutti insieme, avrano, io un po' tutti, pagarli, mandarli indietro. I portatori hanno fatto anche la loro parte, bisogna dire, perché con le dita davanti agli occhi uno guidava una fila di portatori, di 50 portatori, per far pesare ancora di più questo incidente, questa difficoltà. Rimessi in marcia i portatori, il capo spedizione richiama Ugo Angelino. C'è stato un palleggiarsi di responsabilità tra il capo spedizione e Angelino che doveva invece seguire la parte di materiali, attrezzature da far venire fino al campo basi. Sentivamo una forza che urlava, diceva, ma no, il professore è stato lei che lasciava no, è colpa sua. Naturalmente dice, lei da domani va a casa. Allora Angelino si riposera e dice, mi manda a casa. Ah sì, abbiamo parlato un po' tra noi, una volta siamo entrati e ha detto, professore, anche vado a casa, anche vado a casa. Quando certamente tutti hanno detto vado a casa, lui ha dovuto smettere e andare avanti, perché noi sapevamo benissimo che la colpa non era di Angelino. Desio era abituato un po' a essere come un capo militare, poi era buttato là una minaccia anche che poi non so se avrebbe in realtà mantenuto o meno. Che tipo era dunque il capo spedizione Ardito Desio? Era un geologo che aveva alle spalle una dozzina di spedizioni in Africa orientale, in Libia, nelle isolette più sperdute del Mediterraneo, in Persia. E poi nel 1929 era stato il geologo della spedizione geografica del Duca di Spoleto ai Moni di Savoia. Già al campo base, Desio mostra una certa rigidità verso gli alpinisti. Addirittura si era in tenda, veniva a vedere un po' e controllare di che cosa si parlava. O si giocava a carte mentre le dicava. Ragazzi non parlatemi di donne, qui non siamo per giocare a carte o parlare di donne, bisogna comportarsi seriamente. Questa sua rigidità gli costa certamente la simpatia degli scalatori. Il Desio sicuramente non era l'amico che tu vuoi trovare quando vai a giocare a carte o quando fai una piccola arrampicata. Era una persona molto colta, intelligente e esperta che a tutti i costi pretendeva assoluta disciplina. Ma eravamo come una compagnia di soldati e nessuno poteva dire A o B contro la sua decisione. Desio comunque imponeva la sua volontà secondo una sua idea, che aveva un programma che aveva fatto, però i programmi in montagna possono fare e disfare. Con noi non ha mai legato molto. In più dava certi ordini, ordini di servizio come li chiamava lui, fate questo, fate quest'altro, sapevamo benissimo cosa si doveva fare e cosa si poteva fare. Gli ordini di servizio di Desio rispecchiano l'organizzazione militare, la vita di caserma, erano indicazioni, diciamo l'ordine del giorno in sostanza, indicazioni su cosa gli alpinisti avrebbero dovuto fare. Le cose lui non le piaceva ripetere due volte. Lui era un alpino, era un ufficiale degli alpini. E aveva conservato un po' nel suo modo di vivere un senso un po' militaresco della vita. Direi che la presenza di Desio determinante nella parte organizzativa è per il raggiungimento del campo base. Dal campo base in avanti gli alpinisti potevano tranquillamente fare da soli, ma nella prima fase la presenza appunto del professore è essenziale, anche perché sicuramente gli alpinisti sarebbero stati sopraffati da una realtà come quella pakistana. L'altoatesino Hans Kammerlander conosce bene il K2. Il K2 è una montagna sulla quale è particolarmente facile morire. Per la sua ripidità, se si commette un errore, non ci si può rialzare facilmente come ad esempio sull'Everest. Spesso non si ha nessuna possibilità di fermarsi. non si ha nessuna possibilità di fermarsi. Un'esperienza drammatica la visse Cirillo Florianini. Eravamo, il dottor Pagani e io, al secondo campo, e seguivamo Florianini che stava scendendo. Il Florianini ha preso in mano uno spezzone di corda che aveva il suo termine esterno un bel nodo che invitava ad aggrapparsi. Era una corda però non messa da noi ma ancora residua degli americani della spedizione dell'anno precedente. Ha fatto 250 metri di volo e mentre è passato nelle nostre vicinanze che doveva essere morto perché noi gli abbiamo detto tu non puoi dire più niente tu sei morto. Invece passando ha gridato ancora per aria girandosi Alitta Alitta che è la sua moglie è l'ultima volta che ti penso. è andato a fermarsi su un piccolo pianoro ho visto che sanguinava dal naso dalla testa ho detto proprio con rabbia devi stare in piedi e allora l'ho preso l'ho messo in piedi quando ho visto che è stato in piedi dico fortunatamente dico ha poco. Era pieno di sangue era pieno e non è morto ma forse aveva un angelo custode molto più attento di quello che certe volte lo incontriamo oggigiorno. Il K2 non è una montagna da sottovalutare i segni della sua forza sono inequivocabili oggi al campo base è possibile verificare la propria condizione facendosi visitare prima dell'assalto alla vetta. Nel 1954 durante le visite mediche Mario Puchot lasciò qualcuno perplesso. Quando eravamo ai famosi controlli diciamo da parte dei medici la professoressa Di Giorgio che era una famosa studiosa del corpo umano specialmente in quota perché ha testato tanti piloti tanti altri alpinisti e così via dice la commissione ha già stabilito che questo va in spedizione fa parte anzi è uno dei favoriti per per la vetta però a me non piace alla domanda se avesse avuto delle malattie ma io non ho mai avuto malattie ma le malattie cosiddette gentematiche mi pare si chiamano da bambini anche quelle erano non c'erano nella sua vita era talmente sano però dice a me non piace perché questa non è una cosa giusta per l'organismo l'organismo deve imparare e difendersi dal 19 giugno al secondo campo Piuscio è in preda ad una tosse continua mi ricordo un particolare che lui si trovava nel suo sacco piumino e si vedeva che aveva già un po' di tosse ma una cosa che era piuttosto comune che ciascuno magari una certa giornata si trovasse un po' fuori fuori posto col fisico e avesse un po' tosse o problemi del genere era facile prendere mal di gola si tossiva e naturalmente conveniva sempre andare al campo base fu lui stesso che non vuole scendere dal secondo campo al campo base perché non riteneva che fosse il caso non avendo esperienza in Malayana diciamo cosa vuoi per una tosse però forse non si ricordava pagheravamo 6.000 metri a quel punto le condizioni meteo peggiorano il giorno dopo abbiamo chiamato sul medico ancora di notte perché Mario è cominciato a stare male male il dottor pagani il dottor pagani risale seguendo le corde fisse e raggiunge il secondo campo è il 21 giugno io ero lì con lui l'ho dato le pastiglie cominciava a straparlare sudava che ho fatto molto tè e quando è arrivato sul dottor pagani ho capito che era piuttosto grave ma non si pensava mai è una cosa tragica a questo punto nella tenda viene aperta una bombola di ossigeno per facilitare la respirazione alle due di notte il medico ci ha chiamati è morto è spirato all'ospedale di Bolzano opera come infettivologo il dottor Leonardo Pagani figlio del medico che nel 1954 seguì la spedizione alpinistica al K2 due sono le ipotesi principali per quello che riguarda la morte di Mario Pichot durante la spedizione del 1954 la prima è una polmonite ad andamento devastante una polmonite infettiva probabilmente molto grave come quella alle mie spalle oppure la seconda possibilità che si sia trattato di uno dei primi casi osservati e ancora poco conosciuti di male acuto di montagna con una delle sue manifestazioni peggiori cioè l'edema polmonare acuto è una camera d'aria compressa semplice ma efficace quella che oggi salva gli alpinisti dall'edema già al campo base pompando aria al suo interno si permette di ricreare una pressione pari a quella che troviamo comunemente a 4000 metri d'altezza oggi come oggi che conosciamo molto meglio abbiamo caratterizzato molto di più il male acuto di montagna sappiamo che ancora prima delle medicine il male acuto di montagna sia esso cerebrale o polmonare si cura facendo scendere il malato di quota e quindi la manovra principale in questo senso è di trasportare il malato alla quota più bassa possibile alla mattina più tardi usciamo e vediamo arrivare i compagni vediamo arrivare e la prima cosa che abbiamo fatto abbiamo chiesto del Mario è Mario perché avevamo visto che mancava Mario è morto si sapeva che anche nelle spedizioni precedenti c'era sempre stato delle vittime della gente che ci ha lasciato la pelle però il vederlo lì nel nostro gruppo ci ha dato un colpo notevole per noi è stato un colpo molto duro perché perdere un compagno con la quota mette in difficoltà anche tutti noi sembrava possibile che fosse così facile a morire ecco perché è un uomo forte dico ma se stava bene ieri sera se stava bene è possibile di mortare e si è morto e purtroppo abbiamo dovuto lasciarlo sei giorni al secondo campo perché il tempo era terribile e poi siamo saliti a prenderlo un grosso colpo per noi nel contempo c'era anche una grossissima tempesta che ci ha impedito addirittura di portarla a valle al campo base dove abbiamo visto di dargli una sepoltura vicino un altro alpinista di una spedizione americana al campo base a quasi 5.000 metri di quota erich abram è l'addetto all'ossigeno le bombole erano più di 200 mi pare che hanno fatto una vita di trasporto molto lunga perché sono stati spediti dato il peso spediti non via aerea ma sulla nave parecchio tempo prima e una gran parte delle bombole non era più a 220 atmosferi ma una parte di queste bombole ha mantenuto la pressione facevano parte di una fornitura di una ditta specializzata che era la Draeger di Danzica e quelle sono arrivate e rimaste a 220 atmosfere controllate dal campo base e controllate anche su perché ogni trespolo aveva il suo manometro una volta controllate le bombole prendono la strada dei campi alti quasi tutti i tragitti tra i vari campi nel frattempo erano stati attrezzati con un sistema di corde fisse sapevamo che il crestone Abruzzi aveva una certa lunghezza e abbiamo fatto in modo di portare ricordo 5-6 mila metri di corda per attrezzare dall'attacco dello sperone fino ad un certo punto abbiamo avuto per un certo periodo circa 40 giorni di brutto tempo e proprio grazie alle corde fisse potevamo lavorare lo stesso fra un campo e l'altro tra la fine di giugno ed i primi di luglio vengono piazzati il quarto e il quinto campo in mezzo c'è il famoso Camino Bill il Camino Bill si sapeva che c'era e qui in Italia avevamo predisposto una carrucola che poi il campo base è stato perfezionato con i pochi mezzi che avevamo e dal quarto al quinto campo 70-80 metri per superare il Camino Bill è stato teso un cavo metallo dove scorreva una carrucola dove venivano legati i carichi e che venivano recuperati manualmente spesso le avverse condizioni meteorologiche complicano le manovre di salita il sesto campo viene piazzato a 6.970 metri il 15 di luglio e solo dieci giorni più tardi verrà piazzato il settimo campo a 7.345 metri il passo successivo porta gli uomini della spedizione a piazzare l'ottavo campo a quota 7.627 siamo alla fine di luglio al 30 mattina i compagnoni i lacedelli si sono diretti verso l'alto però senza respiratori che erano non all'ottavo ma giù al settimo quindi ci siamo messi brevemente d'accordo che avremmo dovuto scendere al settimo e portarli all'ottavo e poi da lì proseguire fino a dove avremmo raggiunto gli altri due in testa Bonanti ed io scendiamo dall'ottavo al settimo e presi i respiratori torniamo su all'ottavo però se devo dire le mie condizioni fisiche allora erano già un po' tirate per cui ho fatto un'enorme fatica arrivare all'ottavo all'ottavo campo a questo punto si ritrovano Lunzamadi Gallotti Bonatti ed Avram questa riunione all'ottavo si verifica intorno alle ore di primo pomeriggio non so alle due del pomeriggio e a questo punto gli altri erano partiti la mattina non sapevamo a che punto si sarebbero trovati ma occorreva far proseguire i respiratori Bonatti con Lunzamadi e Avram proseguono e partono alle tre del pomeriggio per portare i due respiratori in su l'altro ha detto beh adesso prendiamo i due respiratori e andiamo su perché quelli aspettano l'ossigeno allora lì mi sono risentito benino e ho detto Walter io faccio così in tre portiamo due strespoli due cose due gruppi di bombole e ci alterniamo uno davanti fa davanti pista e gli altri due dietro con le cose con le cariche arrivati però a circa 8000 metri di quota Erich Abram è costretto a rinunciare aveva anche un po' un congelamento un inizio di congelamento a un piede però si andava benino e quando abbiamo sentito gli altri due dal campo 9 parlarci ci è stabilito con sicurezza anche diciamo per loro il sapere la consapevolezza che arrivavano le bombole e per noi che loro erano già diciamo pronti con la loro tenda a essere protetti Bonatti è stata veramente eccezionale perché lui è partito volontario a portarsi l'ossigeno Bonatti e Madi cercano di raggiungere compagnoni e lacedelli lui e l'unza non hanno trovato gli altri dove pensavano di trovarli la prima idea che compagnoni e lacedelli dovesse piazzare l'ultimo campo il più in alto possibile doveva essere modificata in quanto gli altri due che gli portavano i respiratori nello stesso giorno hanno fatto un percorso molto lungo impegnativo per cui difficilmente aveva potuto raggiungere troppo in alto il punto era poco stabilito ma l'avevamo stabilito nessuno di noi era stato prima arrivati sopra siamo andati avanti siamo arrivati al punto dove dovevamo piazzare dovevamo piazzare il campo stabilito prima senza sapere dove solo sopra di noi in cima a questo canale c'era una massa di ghiaccio enorme io ho detto io non mi fido di stare qui qui iniziarono alcuni grossi problemi perché intanto la sera stava scendendo le tenebre stavano scendendo e Bonatti e Madi erano praticamente perduti nel nulla continuavano a vedere delle impronte che salivano verso l'alto e probabilmente erano alla loro sinistra però a quota 7.900 metri Bonatti e Madi non trovarono la tenda di compagnoni e lacedeli i quali evidentemente si erano spostati e qui ci sono due versioni diverse perché la relazione ufficiale quella stilata dal professor Desio continua ad indicare il campo più o meno a quella quota Bonatti da anni sostiene che il campo lì non c'era Lino Achille perché non rispondete Bonatti ha avuto la forza di preparare un piccolo esercilio nel ghiaccio tanto un gradino dove potessi sedere lui e l'altro e passare così la notte ma senza nessuna attrezzatura senza vivere senza nessuna preparazione per poter sopportare un bivaco del genere compagnoni e lacedelli hanno piazzato il nono campo più in alto e più a sinistra di come concordato costringendo Walter Bonatti e Lunza Madi a bivaccare a 8100 metri di quota Noi abbiamo sbagliato dovevamo mettere il campo più in basso come eravamo previsto invece gli abbiamo voluto andare più in alto l'idea dei compagnoni io non volevo ma comunque lì non c'è tanto da discutere perché a quelle quote non si pensa molto cioè bisogna decidere in fretta come distanza non era molta ma con terreno difficile era sufficiente creare quasi un muro tra le due posizioni a un certo punto si trovarono bloccati nel pieno dell'oscurità perché nemmeno la lampadina diciamo portatile di Bonatti funzionava l'aveva tenuta in una tasca esterna e quindi il freddo il gelo i cambiamenti di temperatura l'umidità aveva bloccato le pile a un certo punto videro una luce da in alto sulla sinistra e ci fu un colloquio con la Cedelli ehi avete l'ossigeno si ce l'abbiamo tornate indietro tornate indietro non posso Madi non ce la fa non ce la fa io gli ho detto lascia le bombole e guadagna il campotto e lui mi risponde e mi parla per capito perché è sempre difficile interpretare un po' seguendo il mio pensiero sì per me va bene ma sono preoccupato per me di Lunza Madi cominciava a essere un po' fuori di testa a questo punto a essere impaurito anche con la prospettiva di non sapere cosa fare dove bivacare all'aperto a quella quota più volte Madi cerca di alzarsi e di scendere al campo 8 Bonatti lo ferma sa che Lunza non avrebbe nessuno scampo vedendo lo scuro vedendo la difficoltà di comunicare ha preso un po' di paura perché questo nei portatori era insito che il pericolo c'è se tu vai a disturbare la sede degli dei e ciò che avevi chiamato così il K2 chiamato così ed è anche un po' la sede degli dei e non dovresti disturbarli la giornata lì all'ottavo finisce così nel senso che non vediamo rientrare Bonatti e Lunza e pensiamo che abbiano raggiunto i due davanti la notte fu lunghissima terribile Bonatti racconta che non avevano nulla con se siano tre caramelle le mise in bocca una a lui l'altra la diede a Madi ma poco dopo le sputarono perché erano avevano la gola talmente riarsa che non riuscivano nemmeno più a produrre saliva e quindi a tenere in bocca queste caramelle teniamo presente che fino a quel momento della storia dell'alpinismo nessuno ha mai bivaccato ad una quota del genere oltretutto senza sacco a pelo e senza un qualsiasi straccio di tenda quella è stata una notte una notte di attesa una notte voglio dire non andate di sacrificio di tensione di grande tensione naturalmente dormire non se ne parla i movimenti sono talmente difficili perché si è molto stretti una tenda molto piccola l'estato nostro di salute era che è buono però le nostre forze si sentiva che devono mancare si battisce in ossette come nel deserto e con le quote fare un po' d'acqua ci vuole più di due ore praticamente mi ha fatto tutta notte tè non si vedeva ora che venisse l'alba per uscire per andare per andare avanti la notte del nonno campo è indimenticabile la performance di Walter Bonatti a K2 fu straordinaria agli ultimi campi perché il trasporto dell'ossigeno richiedeva uno spirito di sacrificio e una volontà oltre che una forza fisica tremenda scendere 200 metri risalire di circa 800 metri con 18 chili e 6 sulle spalle in quelle condizioni fu veramente è veramente l'anello determinante che permise poi la cosiddetta conquista del K2 e dobbiamo tutto a Bonatti perché senza il suo aiuto noi non saremmo mai arrivati in cima è l'alba del 31 luglio 1954 Madi è già sceso al campo 8 Bonatti lo raggiunge poco dopo compagnoni e lacedelli escono dalla tenda del campo 9 lentamente indossano i ramponi e partono sull'ora ci sono dubbi le due versioni non combaciano però ad un certo punto di primo mattino compagnoni dellacedelli ripercorrono a ritroso la strada del giorno prima e scendono a recuperare le bombole lasciate da Walter Bonatti e da Madi se le caricano sulle spalle si innalzano lentamente verso l'alto tra l'altro ci sono anche dei passaggi molto difficili provano nel canale che era stato tentato da Fritz Wissner nel 1939 ma c'è troppa neve sono costretti a tornare indietro e poi si spostano sulla destra salgono direttamente questo passaggio molto difficile roccioso alto 30 metri viene risolto da Lino la cedelli che era un grande arrampicatore e viene risolto a mani nude la cedelli è costretto a togliersi i guanti e probabilmente i primi congelamenti gli arriveranno proprio su quel tratto subito dopo ho passato il traverso e mi ho trovato molta neve prima un po' di roccia poi tanta neve si affondava veramente tanto una cosa bestiale faceva uno o due passi poi bisogna fermarsi bisognava prima con una mano tirare via la neve e poi con la mano aiutare a portare su la gamba piazzare la piccozza e poi darsi una spinta e su col corpo i due alpinisti affaticati procedono con estrema lentezza aiutati però dall'ossigeno contenuto nelle bombole l'ossigeno non è che deve da 8000 metri o 7500 portarti a zero sarebbe una cosa diciamo sbagliatissima ti portava 6500 metri dove ognuno poteva lavorare andare arrampicare e arrangiarsi bene il meccanismo era questo tre bombole che potevi escludere una dall'altro però erano collegate a valle ad un polmone miscelatore questo è un circuito aperto il miscelatore quando tu respiravi attraverso la maschera ti dava in un tubo corrugato che era il tubo di collegamento dal polmone alla maschera ti dava tanto ossigeno per non lui riempire questa porzione di ossigeno non doveva riempire il tubo doveva entrare nel tubo e miscelarsi all'aria esterna le bombole Dregger erano le migliori disponibili del parco bombole di tutta la spedizione erano state personalmente verificate da Abram i manometri c'erano anche allora e quindi c'era una certezza che fossero bombole assolutamente cariche non avessero avuto perdite a certo punto non capivo non sentivo che non riuscivo più a respirare c'è mancato l'ossigeno tanto è vero che io mi sono trovato genocchiato con la testa nella neve e dico oddio è arrivato il momento qui e allora faccio segno all'ino se c'era che l'ossigeno ma il manometro è desolatamente fermo sullo zero è stata una sofferenza enorme una fatica terribile poi senza ossigeno c'è parso come davvero sulla testa un masso che ci schiaccia verso il basso e solamente da quel momento io ho avuto l'immaginazione che dietro di noi dietro lì ci fosse una donna un'altra persona che non mi lasciava andare avanti che faceva un passo e il secondo passo dovevo fermarmi ma questa persona mi diceva vai vai che la vetta è vicina la vetta è lì effettivamente io savo la testa la vetta era lì era lì la vetta ma non ci arrivava mai i due inspiegabilmente non si liberano dei carichi perché quando l'ossigeno finì i due alpinisti non soddisfarrono di questo pesante fardello che avevano sulle spalle tirare giù era un po' difficile cioè pericoloso perché si non è molto ripido si è a paura che spostandosi portassi giù anche noi poi abbiamo pensato portamole su per lasciare un ricordo anche sul punto esatto in cui finì l'ossigeno non ci sono elementi certi la versione ufficiale dice che l'ossigeno finisce intorno a quota 8,4 qui c'è qualche problema non si capisce perché impiegano tantissimo nel primo tratto e poi gli ultimi 200 e 11 metri diciamo di dislivello vengono verrebbero coperti in tempi relativamente brevi secondo la versione ufficiale dal nono campo compagnoni alla Cedelli impiegano 10 ore circa per salire di 250 metri sino a quota 8.400 qui sempre secondo la versione ufficiale termina l'ossigeno in sole due ore poi con quasi 20 chili sulla schiena compiono una salita di 211 metri arrivando in vetta alle 18 circa qui Bonatti da un'altra versione sostiene una cosa diversa e dice che in realtà l'ossigeno dovrebbe essere finito intorno poco prima di arrivare in vetta o addirittura sulla vetta e di nuovo su questo bisognerebbe sentire Erika Abram che è l'esperto della questione ossigeno l'ossigeno c'era ed era l'ossigeno che doveva bastare più o meno dopo 10 ore di erogazione a quelle quote studiando i modelli comportamentali registrati nel tempo dall'uomo a quelle quote ed in quelle condizioni critiche potrebbe essersi trattato per i due alpinisti di un'alterazione delle percezioni spazio-temporali oltre gli 8000 metri infatti sfiniti per la fatica per il freddo in forte debito d'ossigeno e sotto un'enorme pressione emotiva il traguardo che appare lontanissimo può essere molto vicino non mancava molto adesso non so la quota perché non abbiamo dato né l'orologio né la quota comunque non mancava molto Achille Compagnoni e Lino Lacedelli hanno piantato la piccozza sul K2 il 31 luglio 1954 alle 6 della sera mi sono trovato mi sono trovato in ginocchio in cima appoggiato alla piccozza con la testa appoggiata come si fa e ho alzato la testa ho visto che sopra di noi non c'era più niente e lì cominciamo a scendere siamo abbracciati naturalmente siamo guardati in giro abbiamo fatto film fotografie e abbiamo potuto vedere una cosa eccezionale dall'assù vedendo il Nanga Parbat il Broad Peak i Garshenbrun tutto verso verso la Cina e anche giù verso diciamo il Baltoro che sembrava una grossa autostrada c'è stato un momento che di commuzione di commuzione che ci siamo abbracciati io che pianto perché non ho vergogna di dirlo proprio pensando che eravamo arrivati che quando è legata la bandierina italiana e diceva la piccozza era l'Italia insomma un'impresa quella italiana del 1954 che è inutile negarlo ci appassiona ancora oggi un'impresa fatta di grandi numeri di grandi rischi e soprattutto di grandi uomini un'impresa di grandi numeri di grandi numeri di grandi numeri Grazie a tutti.